Secondo i media, l'affluenza è stata una delle più alte della storia, già si parla del 60% degli aventi diritto per il referendum che potrebbe cambiare per sempre il volto della cattolicissima Irlanda. Con la probabile vittoria del sì, il matrimonio tra persone dello stesso sesso entrerà a far parte della Costituzione, sarebbe la prima volta che un paese approva le unioni gay con il voto popolare. A sostenere l'emendamento non solo il governo e tutti i partiti, questa coppia ha deciso di votare subito dopo il loro matrimonio per manifestare il proprio sostegno. Questione di uguaglianza, nessuno ci ha detto se potevamo o meno sposarci e tutti dovrebbero avere lo stesso diritto, se lo si desidera bisogna avere la possibilità di sposare la persona che si ama, come noi. È semplice, si tratta di uguaglianza. L'alta affluenza, un segnale positivo secondo i promotori del referendum, è stata aiutata anche dagli espatriati tornati in madrepatria appositamente per l'occasione. Uno degli hashtag più popolari su Twitter in questi giorni era home to vote, letteralmente a casa per votare. Il mio volo doveva essere domani, ma ho cambiato l'orario per poter tornare a casa per votare. Il conteggio è già cominciato e i risultati del voto saranno resi noti nel tardo pomeriggio. Con la voce della Chiesa Cattolica in sordina, dopo gli scandali pedofilia, a difendere la famiglia tradizionale sono rimaste solo le associazioni religiose.